A soli cinque mesi dall'ultimo assalto dei ladri, il gibar di via Farnesiana è stato nuovamente vittima di una spaccata messa a segno nella notte. Una banda intorno alle due ha mandato in frantumi il vetro della porta del locale con una mazza e prelevato dall'interno una scambia monete, sigarette e il contenuto dei due registratori di cassa. In tutto, oltre 5.000 euro di danni. Praticamente in sei anni che siamo qua ci sono cinque furti e un tentato furto. Andiamo avanti una volta all'anno per adesso, poi aumenterà. Di questo passo io sono convinto che aumenterà, dovremmo smettere di fare questo mestiere qua. La quale cosa da fare è smettere. Cosa si può fare in più per cercare di mettere fine o comunque limitare questi episodi? Per cercare di mettere fine a questa gente è impossibile perché abbiamo fatto un po' di tutto, abbiamo rinforzato dei vetri più spessi, abbiamo messo un telaio nuovo dall'ultima volta, abbiamo messo il telaio più rinforzato. Però il telaio non ha ceduto e questa volta hanno sfondato i vetri. Però trovano sempre una via di passaggio. Più amareggiato di così non so cosa dire. L'unica cosa in Italia di buono è che le tasse ci sono sempre da pagare. Quelle ci sono e non mancano. Poi tutto il resto invece è da pensare. Un residente della zona è stato svegliato dai rumori provenienti dalla strada e avvistato dalla finestra tre sconosciuti che caricavano la macchinetta sull'auto e si davano alla fuga. Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia che hanno avviato le ricerche. Dei ladri però non c'era più traccia. Le indagini sono in corso. Grazie. Grazie. Grazie.